Il progetto e l'idea di istituire un corso di formazione di storia della politica ha preso forma e si è concretizzato per il PD di Siderno, che pensava a questa idea già nel 2012. Così al Circolo di Siderno è stato finalmente presentato il percorso di studi che inizierà a marzo e consentirà ai giovani, ma anche meno giovani, tesserati PD e non, di approcciarsi in maniera diversa allo studio della politica. Il corso sarà tenuto dal professore Vanni Clodomiro e sarà completamente gratuito. A parlarci del corso sono stati Maria Teresa Fragomeni e Sebi Romeo, proprio nel giorno della presentazione del corso, che partirà ufficialmente venerdì 18 marzo, ma ogni dettaglio per chi fosse interessato è visibile sul sito del PD di Siderno. Questa sera siamo al Circolo di Siderno per presentare il corso di formazione di storia politica, che era qualcosa che c'eravamo da sempre prefissati all'indomani della Costituzione della nuova segreteria nel 2012. Finalmente ci siamo riusciti, questa cosa sta a preso forma, perché le prime elezioni inizieranno a marzo. E questo perché? Perché vogliamo studiare la politica sotto un altro aspetto. Quindi oltre quello della quotidianità che viviamo ogni giorno, ogni giorno attraverso manifestazioni, incontri, eventi, attraverso la politica comunale, attraverso i nostri referenti anche a livello regionale, vogliamo studiare quelle che sono le origini e come si è arrivato alla storia dei partiti, come si è arrivato, diciamo, quelle che sono le ideologie, perché si parla di destra, perché si parla di sinistra. E questo, diciamo, è lo scopo di questo corso che è aperto a tutti, è gratuito, che durerà fino, per il primo anno durerà fino a novembre e studierà, diciamo, la parte che riguarda appunto l'evoluzione della storia politica dagli anni, dall'Ottocento fino a novembre, diciamo, finiremo con il primo ventennio del Novecento. Il prossimo anno, invece, il programma sarà integrato, quindi, diciamo, dal proseguo della storia e verrà integrato da esperienze, diciamo, dirette che hanno influenzato e che si è arrivati, diciamo, per cui si è arrivati ai giorni nostri, della politica dei giorni nostri. Il Partito Democratico organizza un corso di formazione sulla storia della politica. È un fatto importante per il quale il Circolo di Siderno dà un esempio largo, a mio giudizio. Formare le classi dirigenti, parlare alle giovani generazioni, parlando della storia. Il Professore Clodomiro terrà una serie di lezioni, da marzo a novembre, che riguarderanno l'evoluzione dei sistemi democratici, la storia della politica dei partiti, il rapporto fra i partiti, la democrazia e la società. Penso che il Partito debba impegnarsi molto nella formazione dei suoi giovani e dei suoi dirigenti e che questa iniziativa sia davvero esemplare e significativa.